Una nuova vittima sulle strade siciliane, questa volta a perdere la vita è un ragazzo di 19 anni, Mattia Sant'Angelo di Villa Grazia, morto a Palermo dopo essersi schiantato contro le barriere laterali in viale della regione siciliana. Intorno alle 23.30 Mattia viaggiava a bordo del suo scooter quando dopo aver investito un pedone che stava attraversando la circonvallazione nei pressi della rotonda di Via Oreto, in direzione Catania, non è riuscito più a controllare il mezzo, perdendo la vita sul colpo. Il pedone, anche lui un ragazzo di giovane età, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale civico dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I primi rilievi effettuati dai vigili urbani sembrano confermare come la vittima abbia perso il controllo dello scooter per via dell'impatto con il pedone. E intanto arrivano i primi messaggi di cordoglio sui social «Ancola non ci credo, mi dispiace molto amico mio, resterai sempre con noi, sempre insieme nei nostri cuori». Non ho parole, anzi non ci sono parole in momenti come questo. Ciao Mattia, resterai nel cuore di tutti noi i commenti di due amici.